no 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 allora qua c'è scritto non hai idea di quello che è appena fatto e qua c'è ho attivato il portale di erobrine che bello adesso chiamo i miei amici ciao allora praticamente siete entrati in questo mondo vi ho chiamati sapete perché perché qua c'è erobrine e non è questo ma cosa hai combinato e ho attivato l'altare ho attivato l'altare di erobrine è una cosa bellissima io ho anche la facecam perché voglio che si vedano proprio le reazioni mie bellissime di erobrine che appunto ci saranno erobrine e niente ma cos'è che fa sto qua e spawna in giro ti fa fuori è proprio una nuova mod della 1.16.4 che in realtà esiste da qualche mese allora iniziamo subito qualcuno prende il legno nonno vai prendi il legno vado spacco il legno ok spacca il legno è proprio una vanilla però questa dovrà essere una vanilla molto molto creepy anche tu nichi inizia a scavare il legno e lo so lo so guarda che capisco che sia te che abbiate paura ma tranquilli perché sarà una cosa molto bella secondo me molto molto secondo me ha fatto è invece secondo me è bellissima sarà una cosa orribile e lo so lo so però vabbè tranquilli cioè nel senso io non ce lo sai perché l'hai fatto appunto perché volevo avere altre emozioni in più e no ma sono emozioni brutte cioè faventarsi e poi per far vedere ai ragazzi qua a casa forza di millennio sono brutte dove sei eccola qua grazie mille che bello avere il legno da nonno che con le erano vecchie ha toccato tutto però mani vecchie rugose sì che schifo non volevo saperlo però comunque vabbè lasciam perdere adesso facciamo gli stick che ovviamente sono molto utili e quindi praticamente però dovrebbe essere una serie horror questa qua non di esatto non stai non dobbiamo ridere con ero biannaggia chi so io ma se non è appena appena lo vedremo ci cagheremo addosso in una maniera pazzo ma secondo me non ci compare nemmeno chi lo sa diamo il beneficio del dubbio secondo me se c'è quella mod lì per forza cioè scusami quell'altare non mi sembra una cosa vanilla quindi c'è un po' una cavolata secondo me non fa nulla vabbè se lo dici tu ok vabbè adesso sei cagato quando ragazzi capirà che sarà veramente e robe si cagherà addosso in una maniera non credo quelle ma che proprio non riuscirà a fare più nemmeno un passo a dire nemmeno più una parola oh stai fermo perché ho altro leggo grazie sì mi devi ammazzare per darmi l'altro legno eh perché non mi guardavi ma che deficiente allora cercavo attenzioni ok andiamo in caverna nick vieni con me nick e no no io da solo no 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 ah vedi che però ha paura sto qua inizia ad aver paura questa cosa è un pochino poco allora siamo tutti vicini all'altare quindi venite vicino all'altare raduniamoci qua arrivo e dovevo andare a prendere una caverna ovviamente perché appunto dovrebbe essere una sorta di survival con però ero brain in mezzo alle pappole no no ci sei quindi ci sono ok bene anche tu re qui ci sono bene allora forza dobbiamo andare in cavernozzola quindi dobbiamo cercare appunto una caverna qua in giro perché secondo me qua si trova ecco tipo qua no non c'è niente beh allora da qualche altra parte guardate che io ho paura anche a camminare perché io mi ricordo che nella 1.7.10 quando ci giocavo praticamente c'era tipo una mod di aerobrine che era orribile che praticamente più ti allontanavi dal punto dove non deve parlare per favore più ma che caspita ragazzi era non lo so che cos'era quel coso che volava la davanti non lo so mi sembrava che fosse arrivato tipo da questa parte ma che caspita eri no per favore no dai veramente ok perché io non so allora io ho messo la mod di aerobrine solo più vabbè che cos'era sto coso che volava le shader e tutte le robe però non è andato qua scusa vabbè sarà parte della mod di aerobrine secondo me possibile perché io non ho aggiunto altro eh cioè per ora non ho aggiunto magari poi dopo nei prossimi episodi per arricchire questa serie aggiungeremo altre cose no no grazie no sì 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 è una cosa bella no una caverna però mi pare di averla vista no parli bianco una caverna ok perfetto entriamo dentro guardate che io però mi sto già spaventando perché quella cosa che ho visto è che cos'era non lo so pure io è esatto un coso bianco che volava dietro un albero vabbè è troppo buio prendiamo del carbone prima di tutto che così ci facciamo delle carbone io non c'ho nulla eh io sì invece allora ti passo questo piccone prendi molta pietra tu e la pietra esatto prendi anche il carbone perché ci servirà chiaramente però fate qui e poi ovviamente sì io mi addonno dentro solamente un attimo ok no da questa parte no no cosa cosa ti ha mai fatto prendere un colpo ho visto le tue scarpe mi sono spaventato allora capisco che sei un po preoccupato nonno però stai tranquillando seriamente eh lo so che sei spaventato lo percepisco tranquillamente guardate che anch'io sto iniziando a balbettare perché questa cosa mi sta mettendo paura ragazzi cioè no veramente ma cosa no ma io queste cose non le reggo allora il fatto non è la cosa cioè la moda di aerobrine si arriva a aerobrine è normale capito è assolutamente normale ma è normale perché c'è una moda cioè grazie al cavolo è fatta così però scusatemi quell'altra cosa che caspita era cioè quella cosa in più che arriva è la cosa la volante ma non lo so e non lo so allora un uomo volante no non mi dire che sia arrivato l'ho visto abbastanza bene sembrava un uovo per cosa la che volava un uovo si quello di prima che nica allora avete preso delle cose forza raduniamoci che ti ho preso un po di cose un po di cose da carbone e pietra ecco qua ok io ho visto un qualcosa lì cadere e disposti e pre però praticamente era nick secondo me ok si si era la raga no c'è ci sono io perché c'è ci sei tempo in onda ai cucina non ce l'hai detto no aspettate scusate un attimo ma ci ci sono io scusate no 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 scusami e di te no 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 che non ero io ovviamente come caspita Scusami pure tu che con queste domande Come faccio ad essere io se io sono qua Ma non lo so magari non so Raga è dietro Mi ha perso Era apparso dietro di te Ma chi questo Duni smè non lo so come cassa Stai chiamare Ma non puoi essere te sei qua Ma Nick allora prima di tutto Modera il tono di voce perché siamo In una serie molto preoccupante E infatti sto anche balbettando Prendete questo ferro forza prendetelo Ok perfetto Allora stiamo attenti Fai un piccone di pietra Ok arrivo però viene un secondo qua Perché non so se lo vedo solo io Però vedo cose strane Cos'è che vedi? Se ti metti tipo qua Io davanti vedo nero E sì ma perché sarà È normale forse è un errore Di caricamento No io non mi addentro di più nelle caverne Voi siete pazzi? No no da solo poi no Infatti figuriamoci Cioè nel senso io già che qua sto morendo Ma letteralmente raga cioè Ma io ti dico Io non ne esco vivo da qui è Ma è normale Ma perché poi scusate Ma avete Cioè vi siete Ci rendiamo conto che non è normale Ciò che abbiamo visto Cioè c'ero io Cioè scusate Ma io ripeto C'ero Caspita Io io ma io ero qua Cioè ero con voi Allora L'ho visto infatti E in più ci dovrebbe essere Anche roba strana Lo so lo so Boh non lo so Quante cose avete preso scusate Perché dovemmo stabilirci Vieni qui vieni qui vieni qui C'è tuo fratello C'è il tuo amico fratello Ti prego È vero là No via Ma che caspita Ma non è che ero per quello Ma ero brain no Tutto mentite spoglie Ecco Ma no perché scusate La mod non è fatta così Non c'entra in niente Questo non dovrebbe essere Ero brain Sì cioè dovrebbe essere Un'altra cosa Ma io non ho aggiunto Una mod con me stesso Non esiste una mod con me stesso Ovviamente non sono così tanto famoso Da avere anche una mod Scusatemi Cioè è ovvio Quindi come caspita Facciamo adesso Non lo so Non lo so però Io voglio andarmene via da qui Allora però Non è normale Che Questa caverna io Cosa Cosa stai dice Vieni fuori Nick Che non ho nemmeno Proprio voglia di Cioè allora Ho proprio voglia di capire Che caspita è questa cosa Ho voglia di capire Perché non è normale Ripeto Ma non ho voglia di sentire Le tue cavolate Veramente Cioè Boh Veramente Anche se dovrai parlare Quindi Quantina dove sei Nick? Sono andato Sono alla caverna Non vi vedo più Eccovi eccovi tra gli alberi Ma tu oggi comunque Ti devi svegliare Cioè Allora Ultima volta che ti ripeto Aia Sveglio Forza Venite tutti quanti Allora ci dobbiamo Accampare in un posto Ok Io ho visto qualcosa Ho visto tipo Tipo dei piedi No è Ho visto dei piedi Dai Ma poi cos'è sta acqua nera? Oh raga Eh allora L'acqua nera è normale Credo che sia normale Forse fa parte Ma normalissima tutti i giorni Se va petrolio sta cosa Fa parte della shader tipo Che io ho messo Lì davanti c'è tipo Ok no Mi sa che è tipo Una caverna buia Perfetto Mi sa che stiamo facendo Un po' troppe paranoie Ci stiamo facendo Eh ma guardate che è anche normale Perché ripeto C'ero io Non c'era Eroba Esatto Cioè scusate Mi schili sopporta Ma no Ma poi scusate Ma fra tutte le cose Adesso Seriamente Fra tutte le cose Che Oh comunque Sei serio Perché non mi sembra più Che ci sia No hai ragione Hai ragione Hai ragione Allora quindi Fra tutte le cose Che poteva spawnare Guardatelo ancora lì Sugli alberi E ci sta spiando Ma cos'è? Ma poi scompare a caso Ma quel gatto E' inquietantissima Stato Cioè io Non ho parole Per descriverlo E' una cosa Super inquietante Perché fra tutte le cose Che tu ti aspetti No di trovare Con una mod di Aerobrine Ti trovi me Ma appunto Cioè io Ho attivato Sì ho attivato Il portale di Aerobrine Mico ha attivato me Cioè scusate Ho visto qualcosa Ok Ma non è che Aerobrine Magari ha preso Le tue sembianze Eh lo so detto Ma non credo Ma non credo Questa cosa Secondo me Non Perché poi comunque La mod funziona In un modo Non è che Cioè io ho visto Anche come era scritto Lì nel Dove ho stato scaricato Su Curse Forge Si scaricano di solito Le mod Io l'ho visto Che praticamente Ero lì Praticamente No ho detto Ah bella questa mod Ci dobbiamo fare un video E praticamente L'ho scaricata L'ho messa dentro Ho messo tipo Le classiche mod Tipo Le shader Oppure l'Optifine Ma quelle là Sono normali Le metto sempre Eh esatto E praticamente Cosa è successo Eh magari si è buggata La mod Sì Mi fa vedere me Duniser Il nome sopra Duniser RFP Che è il mio Ovviamente Eh ma girati Ancora davanti a noi Ci voglio credere Non ci voglio credere Ma poi raga Avete notato Ma poi scompare Subito Si scompare subito Esatto Ed è come se ci stesse spiando È come se ci stesse spiando Ma cosa vuole da noi Cioè cosa ti avevo fatto Non ne ho idea Ma a me di certo niente Allora io direi Di stazionarsi Che cosa ti sto dicendo Non so Vabbè abbiamo capito Sì sì va bene Stazionarci da questa parte Qui Vicino al suo lago Eh Vicino a questo laghetto Raga è lì È lì E sta nuotando Ma sta nuotando No no Ci sta venendo incontro Raga Lontani Per favore È andato sotto Porca Raga è inquietantissima Sta roba Facciamoci una casa Però forza veloci Scaviamoci qua dentro Cerchiamo di farci una casa Cerchiamo di capire Aerobrine in questo momento Non si sta ancora presentando Questa cosa È un po' inquietante È un po' inquietante Questa cosa Secondo me Si presenterà Forse Ok io direi Di farla diventare una serie Perché dovevamo capire Che caspita è Questo Duniser RFP In più Che non c'entrava Assolutamente niente Non c'entra niente Però c'è E dobbiamo capire Che caspita Perché ci dovrebbe essere Non è normale come cosa Ovviamente Io intanto Cos'è che c'è qua Tipo è un oceano Ci sono altre cose Porca misera raga Però devo dire È fighissimo Allo stesso tempo Perché Molto bello Sono tipo dei Eccolo di nuovo Di nuovo Vai Stai facendo uno scherzo No vabbè Sì sono io che sto facendo Sì sì Nick Certo Sono proprio io che sto facendo Uno scherzo Sì sì Perché sono io infatti Ma vai a quel paese Guarda Hai visto Hai visto qua C'è un portale del nether C'è gratuito Ho visto ho visto Questo qua lo potremmo utilizzare Ma direi che Il focus sarebbe su aerobrine E su dunis Direi Eh ma va a finire Che anche là Cioè negli inferi Di solito non so Si potrebbe presentare Più frequentemente no Sopra il portale Sopra Cosa 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 C'è di nuovo lui Non mi dire Sì sì quello là Oh mio dio Ti prego Cioè tesi sopra il portale No Eh però se Se noti non fa nulla di che Cioè per ora ci spia solo Anche se dà molto fastidio Guarda basta E questa è la cosa inquietante Che ci spia E scusate ma Avete notato che Quando io lo vedo Lui Scomparso Quando io lo vedo Praticamente lui scompare Ma non è che per caso C'entra qualcosa Perché tipo Nick è stato qua Per mezz'ora E non è scomparso Sono arrivato io Ma per forza C'entro io Scusami Dunis RFP Si chiama Esatto esatto Hai ragione Hai ragione Allora quindi Uccidiamo anche questi maiali Che so che li sto picchiando Con un piccone Ma è normale Non ho nemmeno più La cognizione di causa Praticamente qua E guardate Non ho parole Veramente per descrivere Quanto caspita È inquietante questa cosa Guardatela No raga Io ho letteralmente La pelle d'oca Cioè non so se si vede Ma ho la pelle d'oca Cioè vedete Io ho fatto bene A mettere la facecam Perché è la cosa Più inquietante Che io abbia mai visto No ma immagino Infatti no È bruttissimo Perché possiamo metterci Tutte le caspita di mod Tutte le caspita di entità Ma se vedi te stesso Un tuo sosia Su Minecraft No Di certo È inquietante È inquietante Eh sì Molto Molto Bene Erobrain direi che in questo video Non so se c'è Dovrebbe esserci Me lo auguro Guarda E lo auguro Ma cosa Meglio così No allora vabbè Capisco che tu voglia Ma è meglio Aerobrain di un Non si palese È meglio Sì allora Sicuramente esatto È meglio Aerobrain di un tipo Che continua a spawnare No raga Io mi sto cagando addosso Cioè non voglio dire Forza Avete scavato la casa La domanda Avete scavato la casa Sì Cioè ho scavato della legna Per la casa Anch'io Ok allora forza Scaviamo qua dentro Se tu rifai un'altra volta Una cosa come Quella che hai fatto ora Nonno Ma cosa ho combinato Non lo so Hai ripetuto la mia stessa cosa Che ripetuto io Venite qua da me Dove casca siete Scusami Forza venite È qua Io vorrei farlo durare Un po' di più questo video Perché vorrei che venisse Aerobrain però Porca miseria Mi sa che vi apersi Dai nonno Per favore Dai non Non vi trovo più Vieni al lago Forza Non lasciatemi Da so Eh sono Ci alla Eccoti Sì sì Ti vedo Ok perfetto Allora scavate una casa qua dentro Forza scavate da questa parte È praticamente Qua davanti a me No raga Per favore Porca miseria Cioè io qua mi prendo un infarto Se ne Allora Forza Ma dove vai nonno Qua Eh sono dietro di te Forza scavate qua dentro Scaviamo una casa Forza Ciao Ve l'ho detto 20 volte però È Più rapidi a fare A eseguire le mie direttive Mi è colpito Mi sono spaventato Era sotto l'acqua È spuntato da sotto l'acqua Porca miseria Ma se io vado dove c'è lui Ok io so che sto facendo una cosa Un po' Un po' impulsiva Un po' impulsiva Eh non esagerare Perché quello là Non si sa come regisce Ma che poi ti ammazza Allora L'acqua però per fortuna È nera Però Devo dire Per fortuna Non è una fortuna proprio Cioè allora no E dico Per fortuna è trasparente Sopra è nera Però sotto è trasparente Ma io qua vedo che ci sono due blocchi E lui comunque È riuscito a Tipo a stare Tipo vabbè Non lo so È proprio strano Tutto questo Però Adesso È roba che non c'è ancora Ma perché non c'è Ma ti sta seguendo Ti sta seguendo No Non mi dire No raga Raga No 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 Per favore No 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 Io qua mi in casa No no Cosa è successo Cosa è successo Raga 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 No 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 C'era lui che mi stava seguendo volando Se ne è andato Oddio Pure fuori Non reggo sta roba Cioè veramente Cioè scusate Ma stiamo scherzando Cioè allora Poi mi sta uscendo il nord Che c'è Allora Tranquillo È ancora qui Ancora qui Basta Sta volando No 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 Raga Cosa era Un fulmine Cosa sta succedendo Sento cosa Qua è aerobrain Mi sa però È veramente lui Sì può essere che sia lui Perché io Eh lo so Lo so Lo so Raga No per favore Io sto morendo Cioè veramente Ma non Allora non è norma C'è capito Allora Io seriamente raga Ma non me lo spiego Non è normale Ripeto Non è normale Che ci sia Erwin Non è normale Che ci sia un caspita Di dunis Volante Che mi segue No 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 Aiuto No no È fulminato Iluminato Sei morto Sei morto Sei morto Cioè non è normale Allora facciamo così Ti puoi tipare forza Perché tanto Va bene Tanto ragazzi Non è nulla di che Io vi voglio far vedere Questi retroscena Perché sono importanti Al fine di capire Che caspita Sta succedendo No sta succedendo Un macello Io sono morto Perché si è spawnato Un fulmine Dentro la casa E ho visto Ma guarda che l'ho vista Era anche protetto Infatti ti ha colpito in pieno Ti ha colpito in pieno E continuano ad esserci E questo è il bello Capito Continuano ad esserci E questa cosa non è normale Cioè ci rendiamo conto Non è una cosa normale Che succede su minecraft Punto E non è la mod di euro Bene io ne sono sicuro Perché la mod di euro A meno che non siamo Aia Attenzione Non morire Aspetta Se hai bisogno di cibo Sì mi serve un po' di cibo Comunque mi sa che ho preso Le tue bistecche Grazie grazie Ok io ho visto qualcosa Ma non so Boh vabbè Starò impazzendo Probabilmente Ah Porca Porca No ti ha mai fatto venire Un colpo Allora Mai più però Far questi urli Per favore Allora mi stava anche venendo Da ridere perché erano Di quelle risate pazze Però No veramente Per favore No veramente Cosa che è successo Ma siamo da qua Ma siamo ancora qua C'ero io C'ero io Dobbiamo arrivare Allora dobbiamo arrivare Non è ancora finito il video Ok allora Quindi Niente Dobbiamo concentrarci meglio Per capire cosa sta succedendo qui Ehm Dato che non sta Oddio Ho visto Ho visto Aerobrine Sono quasi sicuro di aver visto Aerobrine Ma cosa stai dicendo Io non ho visto Mi è sponato Poco davanti agli occhi L'ho visto Cos'era Ma cosa stai dicendo Non l'ho visto Cos'è L'ho visto Sono quasi sicuro Ed è scomparso subito Allora potrebbe anche essere questo Eh Potrebbe essere Perché appunto Siamo in un mondo Con la moto di Aerobrine Direi Però Ho Lo visto Lo visto anche io Oh raga Raga c'ero No 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 Fermo 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 Sto succedendo Vai via Scappa 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 Vai in casa Vai in casa e chiudi Ti va in casa e chiudi Ti nonno Ok ok Adesso sei protetto in acqua Tranquillo Non riesce ad arrivare Praticamente questo dovrebbe essere Aerobrine Ma perché ha un piccolo in mano Raga C'è non è un punto Però Vedete Aspetta Devo vedere i suoi occhi Prima però Perché appunto Devo Aerobrine Ecco Aerobrine Sì perché l'ho visto solamente Da dietro Da dietro Quindi Forza Vieni 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 Chiudiamoci dentro Dove la casa Dove la casa E qua 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 Da questa parte Vieni 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 Forza forza Entra Entra Non so dove caspita sei Però diciamo Ok vieni vieni Corri Perfetto Madonna No veramente raga C'è non è normale Questa cosa Io però vorrei vedere Che caspita Non è che apre Non è che apre E là Nel laghetto Nel laghetto C'è la con me mi sa Vai dietro tu Nick che caspita fai Mamma donna Oggi Vabbè Dai Non lo so Vedremo meglio C'è anche Dunice No ci sono anche io ragazzi Ci sono anche io Ma cos'è Si stanno avvicinando a noi Non lo so Io direi però Di finire qua Direi di finire qua No ci sono anche io No ci sono anche io